In Sicilia una casa su tre è vuota, per un totale di quasi un milione di immobili adibiti ad abitazioni non utilizzati. Numeri importanti che classifichano la Sicilia al quinto posto in Italia per abitazioni sfitte. Guardando alle province siciliane, poi Agrigento, è la seconda per numero di appartamenti sfitti, più di 121 mila, circa il 41,50% del totale delle abitazioni nel capoluogo di provincia, percentuale preceduta soltanto da Ragusa, dove si registra il 41,69%. Tra le cause probabilmente la corsa al mattone, che ha visto soprattutto negli anni Ottanta il proliferale di parazzi lungo e largo, per mano di imprenditori e costruttori, che soltanto negli ultimi tempi hanno tirato il freno a mano per colpa della crisi, sebbene ci sia ancora chi puntando su villa e case vacanze continua a costruire per rendite finanziarie. Il problema è che quando c'erano i soldi si sono costruite più case del dovuto ed ora che i soldi non ci sono più non si riesce a far fronte nemmeno agli affitti. E sono in tanti quelli che scelgono di lasciare il proprio paese di origine per trovare lavoro altrove, lasciando le proprie abitazioni vacanti. Poi ci sono pure le coppie o i singolo che inizialmente avevano affittato una casa, ma percependo un solo stipendio, peggio ancora nemmeno quello, sono stati costretti a tornare ad abitare con i propri genitori. La paura principale di chi ha a disposizione una casa e vorrebbe affittarla è infatti quella di trovarsi davanti un inquilino moroso che non può permettersi di far fronte all'affitto. In Sicilia, solo nel 2015, sono stati emessi quasi 3.000 sfratti e 8.000 richieste di esecuzione. E dopo aver sfrattato un inquilino, difficilmente i proprietari sono propensi ad affittare nuovamente la propria abitazione. Una soluzione al problema potrebbe essere quella di abbassare gli affitti, ma ci sono così tante tasse per i proprietari che, diminuendo la pigione, andrebbero in perdita. E quindi che fare? Il giornale di Sicilia, ne dico la oggi, ha chiesto un parere sia a Giusy Mirazzo del Sunia, sia a Giuseppe Buccheri di Confabitare, i quali propongono maggiori fondi a sostegno degli affittuari, attraverso ad esempio l'unificazione del fondo per l'amorosità con quello per il sostegno all'affitto, che negli ultimi anni non sono stati sfruttati appieno o concessi a singhiozzo, e maggiore tutela ai proprietari, attraverso una tassazione agevolata o sfruttando lo strumento dei contratti concordati, poco usato in Sicilia, ovvero un dialogo tra proprietari e rappresentanti degli inquilini per stabilire tariffe ridotte rispetto ai prezzi di mercato, defalcando parte delle tasse ai proprietari.